L'unica speranza possibile per noi e per il nostro pianeta. Anche se fuori tempo da un punto di vista formale, io, se voi siete d'accordo, l'ammetto e l'accordo. Grazie. L'unica speranza è capire che comunque noi che abbiamo un territorio, l'Italia, tra i più belli del mondo, un patrimonio storico, artistico, architettonico che tutti ci invidiano, noi abbiamo un partito ambientalista con numeri primi ed è vergognoso per questo. Come possiamo intercettare queste persone se noi non diamo un buon esempio? Per tanto, continuiamo a cercare di lavorare sempre su questo. L'unica speranza. Per tanto, continuiamo a cercare di lavorare sempre su questo. Per tanto, continuiamo a cercare di lavorare sempre su questo.